Questa sera siamo qui con Monica Corimbi e Giovanni Caroni di Bucche Teatro. Oggi, 27 marzo, i cinema e i teatri avrebbero dovuto ripartire, ma così non è stato in tutta Italia e nemmeno in Sardegna, che è stata fino a una settimana fa zona bianca. Chiediamo a Giovanni Caroni e a Monica Corimbi perché siamo questa sera, un evento in presenza, ovviamente distanziati dal titolo Le parole da salvare. Sì, abbiamo voluto organizzare questo momento per ritagliarci un attimo di socializzazione. Siamo a digiuno ormai da troppo tempo, tra l'altro socializzare è sempre una parola difficile oramai da coniugare e quindi sentiamo proprio il bisogno impellente di stare con gli altri, sentire quali sono le possibili soluzioni, funzioni, strumenti per cercare di arginare questa solitudine che si è creata all'interno di organismi, all'interno delle famiglie, all'interno delle singole persone. E quindi la strategia era quella di trovare una parola a ognuno di noi, portarne una qui stasera per un attimo di riflessione. Monica, se vuoi dire anche tu qualche cosa, anche se avessi davanti anche il ministro Franceschini, che cosa gli diresti? Beh, non sarebbero parole carine, sai ci sono le parole belle e le parole brutte, quello che dico anche ai bambini, nel senso che in questo momento mi sento molto arrabbiata perché ci sono tante incongruenze e il fatto che i teatri, i cinema, i luoghi della cultura siano chiusi credo che sia proprio una ingiustizia, la vivo come un'ingiustizia. Infatti una delle parole presenti che sono state scelte è stata proprio questa, non da me, però mi ci ritrovo parecchio. I bambini, in questo caso, io mi occupo del settore ragazzi, sono quelli secondo me più trascurati e hanno davvero bisogno di ritornare a frequentare il teatro. Oggi sarebbero dovuti andare in scena due spettacoli, uno alle 17 e uno alle 21, il primo proprio per i bambini che era già sold out e purtroppo abbiamo rimandato l'evento a data da destinarsi. Grazie a tutti.